Siamo qui con Vellucci, mister del Real Fondi. Oggi sconfitta fin troppo pesante. Sì, direi di sì, però tenere testa rapido in classifica rimaneggiati non è facile, non è una scusante, però comunque penso che forse qualche episodio ci ha pure condannato, perché comunque abbiamo anche tenuto bene il campo fino ad un certo punto, secondo me. Sì, appunto un 5-2 che non rispecchia forse il reale valore della squadra in campo. Ma noi, beh, è inutile ripeterlo sempre, siamo partiti quest'anno, veniamo da una Serie D, ragazzi che non hanno mai fatto campionato di C2, il campionato di C2 tranne una persona, quindi per noi è un successo venire qua e giocarsi la partita. Poi è chiaro che se vai sotto di due ore e gol, perché magari rimparlo su un'azione fortunosa, vai sotto e riprendere è abbastanza difficile. Tolgo l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi dieci minuti, perché comunque eravamo stanchi, abbiamo preso qualche giocatore, ha preso qualche calcio, e vabbè, calcio non cattivo, di gioco, quindi si è fatto male. Già uno era un po' in dubbio per oggi, quindi è calata un po' la qualità della squadra. Siamo con D'Angelo, oggi squalificato per il Rea Stella, oggi è partita forse fin troppo difficile per le previsioni. Sì, è partita difficile, perché alla fine quando giochi con la prima della classe ci mettono tutti quella grinta in più che non rende mai la partita semplice, quindi alla fine ce la siamo dovuti a lottare fino agli ultimi minuti. e nonostante tutto siamo riusciti a conquistare i tre punti, che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della partita. Forse qualche errore difensivo vi ha magari intracciato la strada, soprattutto a primo tempo. Sì, abbiamo fatto qualche errore di troppo, che fortunatamente non ha mandato nel verso negativo la partita, e quindi fortunatamente è andata bene.